le diamo il benvenuto ai resti del palazzo reale della sovrintendenza costruito alla fine del XVII secolo come abitazione del sovrintendente della miniera e per gli uffizi amministrativi e di contabilità Azal Maden era conosciuto come la casa grande per le sue grandi dimensioni la sua posizione nel centro sociale della città nel XVIII secolo fu pensata per poter governare bene le miniere e la popolazione si tratta di un edificio di epoca moderna e contemporanea con un ampio cortile centrale porticato con facciata in piedi il lato nord dell'edificio aveva un piccolo recinto con un ingresso porticato per l'accesso della cavalleria oggi giorno si conserva soltanto una parte della chiusura della porta principale realizzata in pietra calcàrea e formata da doppie palastre e architrave con trigliti e metope all'interno è stato creato un piccolo parco e il resto della casa è completamente escomparso adesso lasciamo questo posto ma può continuare a conoscere altre storie di al Maden spostandosi al prossimo punto di interesse grazie grazie